Arona Music Festival, 12, 13 e 14 luglio, Punta Vevera, Arona. 12 luglio, George Benson, l'icona della storia della musica. 13 luglio, il primo disc jockey italiano, Renzo Alvole, l'orchestra italiana. 14 luglio, il rocker più famoso d'Italia, Edoardo Bennato. Ricorda, 12, 13 e 14 luglio 2019, Punta Vevera, Arona. Biglietti su Ticketmaster e Ticket One. E non finisce qui, scopri tutto il programma dell'Arona Music Festival su www.aronamusicfestival.it